Il 6 giugno, data di inaugurazione del decimo festival SUC alla piazza delle feste del Porto Antico, abbiamo tutta una serie di appuntamenti che preparano in qualche modo questo evento, ormai atteso dai cittadini genovesi, non solo dai turisti e dai stranieri. Gli appuntamenti sono teatrali, con il teatro dell'archivolto avremo Giobbe si rivolge a Dio, che è un appuntamento teatrale sulla giustizia, lo indaghiamo insieme a Dugo Volli, filosofo, critico teatrale, e insieme a Roberta Aloisi, Edmondo Romano, è di nuovo uno spettacolo un po' simile a quello fatto con Don Gallo sul tema esistenza soffio che ha fame, questa volta Giobbe si rivolge a Dio, è ballata la ricerca del vero e del giusto, quindi il tema sarà la giustizia. Poi ad aprile gli stranieri portano fortuna, stiamo scrivendo questo spettacolo con Marco Aime, antropologo importante che insegna a Genova, ma che soprattutto spesso va in Africa, e ha scritto questo testo, questa raccolta di racconti africani, da qui è nata questa idea di fare uno spettacolo che verrà presentato il 22 aprile, e poi per tre sere al teatro della Corte. In mezzo, laboratori teatrali per i ragazzi, in collaborazione con istituti scolastici, e poi naturalmente tutta una serie di attività che continuano con l'associazione SUC, che ormai è diventata un'associazione composta da circa 500 persone, e che quindi programmerà degli incontri per indagare il tema della multicultura, visto che il 2008 è anno europeo della intercultura, e questo ci sembra molto importante. di questo da città, questo è una grande foglia, e questo è un paio di posto, e questo è un paio di via, e questo è un paio di pizza, ma che prego? Grazie.